Ciao ragazzi, in questo video parliamo di Galileo Galilei, che è un vero gigante della storia umana. Infatti lo studiate in varie materie, storia, filosofia, fisica, scienze. Qui invece lo vediamo nel campo della letteratura. In particolare vediamo prima la vita, poi le opere principali, con una particolare attenzione a due, il siderius nuncius e il dialogo sopra i due massimi sistemi. Infine il pensiero, la poetica e lo stile. Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564 da un'antica famiglia fiorentina. Il padre era un musicologo e lo avviò a studi di medicina, però preferirà le materie scientifiche. Infatti Galilei è considerato da tutti il padre della scienza moderna e dopo capiamo anche il perché. Il suo primo incarico fu quello di professore all'università di Pisa, però nel 1591 il padre morì, quindi Galilei aveva su di sé il carico di tutta la famiglia e accettò quindi un incarico più prestigioso, più pagato all'università di Padova nel 1592. E proprio all'università di Padova cominciò a interessarsi della teoria copernicana che vedeva il sole al centro dell'universo e non alla terra. Nel 1609 poi accade qualcosa di molto importante perché gli olandesi avevano inventato un nuovo strumento, il cannocchiale. Lui lo perfezionerà, quindi non è vero che Galileo ha inventato il cannocchiale ma lo ha perfezionato, quindi riuscirà a ingrandire gli oggetti addirittura di mille volte. La grande novità però è che Galileo non lo utilizza per scopi militari, quindi per avvistare le navi o gli eserciti nemici in lontananza. Galileo che cosa fa? Lo punta verso il cielo per osservare le stelle, i pianeti, quindi per un uso astronomico per studiare e capire l'universo. Grazie al cannocchiale quindi farà una serie di scoperte veramente incredibili. Per prima cosa osserva la superficie della Luna e vede che questa non è liscia e perfetta come si credeva, ma anzi è piena di crateri, di valli, di monti, esattamente come la superficie terrestre. Scopre poi quattro satelliti di Giove, io, Europa, Ganimede e Callisto, che chiama anche pianeti medicei in onore della potente famiglia di Firenze e dei Medici. Osserva poi che la Via Lattea, cioè la nostra galassia, è fatta di una moltitudine di stelle, molte più di quelle che si riescono a vedere. Osserva poi anche gli anelli di Saturno e per la prima volta anche le macchie solari, queste zone scure sulla superficie del Sole, che sono tutte prove a sostegno della teoria copernicana. Tutte queste nuove scoperte furono pubblicate nel Sidereus Nuncius, che tradotto vuol dire l'annunciatore e il messaggero delle stelle, dedicato sempre alla famiglia dei Medici. In questo modo si ingraziò a Tirole le simpatie della potente famiglia di Firenze, che infatti gli diedero un incarico molto più prestigioso. E quindi nel 1610 Galileo si trasferì a Firenze, dove fu nominato matematico primario dal Gran Duca di Toscana Cosimo II in persona. Fece poi un viaggio a Roma per rappresentare queste sue nuove scoperte e fu accolto nell'Accademia dei Lincei, questa prestigiosa accademia scientifica con una sede a Roma. In questi anni poi pubblica le lettere copernicane, in cui ribadiva la correttezza della teoria copernicana, ma anche un po' in polemica con la Chiesa, ribadiva la libertà della ricerca scientifica. Quest'opera gli costò la prima munizione da parte della Chiesa, che gli vietava appunto di insegnare e di pubblicare quelle teorie che erano contrarie alle Sacre Scritture, alla Bibbia. La condanna definitiva però arrivò dopo la pubblicazione della sua opera più importante, Il Dialogo sopra i due massimi sistemi. Infatti quest'opera fu sospesa dalla Santa Inquisizione e Galileo fu processato e condannato al carcere a vita. Oramai vecchio e malato fu costretto alla biura, cioè dovette rinnegare tutte le sue teorie. E anche grazie alle potenti amicizie che aveva tra la Chiesa e i nobili potenti dell'epoca, riuscì a uscire di prigione e a scontare una pena alternativa, quindi una sorta di arresti domiciliari presso la sua casa ad Arcetri, vicino Firenze. Si dice anche che negli ultimi anni perse totalmente la vista, probabilmente per i suoi studi sul sole senza particolari filtri, e morì proprio ad Arcetri nel 1742. Verrà poi sepolto nella Chiesa di Santa Croce a Firenze, che ospita tra l'altro anche altre tombe importanti, come quella di Michelangelo, di Foscolo e di Galileo appunto. Se vorrete approfondire vi lascio anche altri studi e scoperte da parte di Galileo, come ad esempio la caduta dei gravi. Cioè lui aveva già capito che un martello e una piuma cadrebbero insieme nello stesso momento se non ci fosse l'attrito dell'aria che rallenta la piuma. Questa cosa in effetti verrà dimostrata dai primi astronauti quando andranno sulla Luna. Lascerò cadere tutte e due e spero proprio che cadano sul terreno nello stesso momento. Che ne dici? Si dimostra che Galileo aveva ragione. Altri studi sul piano inclinato, sul moto del pendolo, il principio di inerzia, e inventò anche la bilancetta idrostatica che permetteva di calcolare il peso specifico. E infine in campo astronomico osservò le fasi di Venere e le fasi lunari. Passiamo più nello specifico alle opere principali. La prima, come detto, il Siderius Nuncius pubblicato nel 1610, in cui annunciava le sue nuove scoperte scientifiche grazie proprio all'uso del cannocchiale che abbiamo visto prima. Qui vedete proprio le immagini e i disegni della Luna realizzati da Galileo stesso e vedete anche il cannocchiale da lui costruito e utilizzato per queste sue scoperte. Infine, come si capisce anche dal titolo, l'opera è scritta in latino. E questo perché Galileo si rivolge innanzitutto a un pubblico di scienziati, di intellettuali. E il latino era appunto la lingua veicolare, la lingua più utilizzata in un pubblico colto, come oggi ad esempio sarebbe l'inglese. Scrive poi lettere copernicane, cioè quattro lettere sul tema della libertà, della ricerca scientifica, che, come scrive Galileo, si basa su certe dimostrazioni e sensata esperienza, quindi sulle osservazioni dirette dei fai, fenomeni e anche su dimostrazioni certe, matematiche, scientifiche appunto. E non semplicemente sulla parola di antichi autori come ad esempio Aristotele. Il saggiatore del 1623. Questa è un'opera sulla natura delle comete. Infatti in quel periodo erano state avvistate varie comete. E in quest'opera Galileo entra in polemica con l'astronomo gesuita Orazio Grassi, il quale pensava che le comete fossero dei corpi celesti con un'orbita circolare intorno al sole, mentre Galileo pensava che fossero semplicemente dei fenomeni ottici. Quindi qui Galileo si sbaglia e si sbaglia anche di grosso. Ha ragione però quando critica il metodo usato dagli altri intellettuali, basato ancora una volta su quello che si diceva e si scriveva negli antichi libri, quello che diceva Aristotele ed altri dell'antichità. Galileo invece vuole osservare e dimostrare, verificare le sue tesi. Nel 1632 poi pubblica il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, ovvero quello tolemaico e quello copernicano. Facciamo subito chiarezza e vediamo le differenze tra questi due sistemi. Quello tolemaico deriva da due antichi filosofi e pensatori come Ptolomeo e Aristotele. Ed era un sistema geocentrico, cioè la terra al centro con il sole e gli altri pianeti che vi ruotano intorno. E questo era il sistema accettato anche dalla chiesa, anche perché in un passo della Bibbia Giosuè ordina al sole di fermarsi, quindi voleva dire che era il sole a muoversi. Quindi per la chiesa se c'era scritto nelle sacre scritture doveva essere così. Copernico e Galilei invece avevano la teoria eliocentrica, cioè il sole al centro e la terra e gli altri pianeti che vi ruotano intorno. Oggi sappiamo che questa è la teoria corretta, però al tempo capite che era veramente veramente difficile mettersi contro la chiesa, quello che dicevano le sacre scritture, ma anche questo importante filosofo del passato che era Aristotele, considerato quasi una massima autorità. Bene, fatta questa importante premessa, vediamo che l'opera è scritta in volgare. Abbiamo una vicenda che si svolge in quattro giornate nel palazzo veneziano di Sagredo. Infatti abbiamo tre personaggi, attorno a cui ruota tutta la vicenda. Questi tre personaggi sono Salviati, Sagredo e Semplicio. Salviati e Sagredo sono due personaggi realmente esistiti, che tra l'altro erano anche amici di Galileo. E questi sostengono la teoria copernicana, quella con il sole al centro. In più hanno un approccio scientifico fondato proprio sull'osservazione dei fatti e delle verifiche sperimentali. In particolare Salviati è una sorta di alter ego di Galileo, molto moderato, misurato nelle parole, che non ha quella pretesa di sapere tutto con certezza. Mentre Sagredo, che è il padrone di casa, ha un carattere molto più focoso e irruento, e i due spesso irridono e si prendono gioco di Semplicio. Questo invece è un personaggio inventato, però già dal nome vediamo che si richiama alla semplicità, alla banalità delle sue teorie e opinioni. Semplicio invece sostiene la teoria geocentrica, quindi con la terra al centro, e sostiene tutte le teorie di Aristotele. Però, senza avere delle prove, dei dati oggettivi, anzi, anche di fronte all'evidenza dei fatti, lui risponde con ipse di exit. Cioè, l'ha detto Aristotele, quindi deve essere per forza così. Qui vi lascio anche un riassunto delle quattro giornate. Ad esempio, nella prima si discute sulla natura dei corpi celesti e della terra, nella seconda del moto di rodazione della terra, nella terza il moto di rivoluzione della terra intorno al sole, nella quarta invece delle maree, che dimostrerebbe appunto il movimento della terra. E infine, come già abbiamo visto, nonostante questo atteggiamento di grande cautela, Galileo non ha la presunzione di certezza, ma anzi, sostiene la teoria eliocentrica come una pura ipotesi. Nonostante quindi tutta questa cautela, l'opera gli costò la condanna da parte dell'inquisizione e fu messa nell'indice dei libri proibiti. Piccola curiosità che le scuse e la riabilitazione, tra virgolette, di Galileo arriverà più di 350 anni dopo, nel 1992, con Papa Giovanni Paolo II. Vediamo il pensiero di Galileo e diciamo subito che è un pensiero scientifico, moderno, però aggiungiamo e chiariamo che lui non era ateo, anzi, era anche un fervente credente. Quindi lui non vuole mettere in discussione la Bibbia, la Chiesa o Dio. Anzi, lui sostiene che religione e scienza sono compatibili, proprio perché si occupano di cose diverse. Sostiene quindi l'autonomia della ricerca scientifica da quello che invece dice la Chiesa, la Bibbia o gli antichi, come ad esempio Aristotele. Per Galileo, infatti, la Bibbia non ha uno scopo scientifico, ma morale. Nella Bibbia non c'è scritto come è fatto il cielo, come è fatto l'universo o la natura, ma invece come andare in cielo, cioè come andare in paradiso. La Bibbia quindi ha uno scopo morale, etico. La scienza invece non si deve basare sui dogmi o sui libri antichi o sui autori per quanto prestigiosi del passato, ma si deve basare appunto sull'osservazione dei fenomeni, sulla matematica, sulle verifiche sperimentali. Ecco perché con Galileo nasce il metodo scientifico, che rivoluzionerà tutto. Nasce quindi la scienza moderna, basata sull'osservazione dei fenomeni, sulla formulazione di un'ipotesi e poi sulla dimostrazione, sulla verifica tramite un esperimento. Se tutto va bene, si formulerà una legge. Ma, come sapete, nella scienza non c'è questa certezza, arriverà sempre una teoria più giusta che soppianta quella precedente. Quindi, lo ribadiamo, Galileo critica Aristotele soprattutto per quanto riguarda il metodo e critica anche gli intellettuali del suo tempo perché si rifanno a questi antichi senza nemmeno osservare i fenomeni o dimostrarli scientificamente. Ad esempio, famoso è il passo in cui si cita l'origine dei nervi. Aristotele pensava che si originassero dal cuore, mentre invece sappiamo che si originano dal cervello. E questo si poteva capire semplicemente osservando il tutto. E vi cito anche quest'altra metafora che spesso utilizza Galileo, e cioè che l'universo o la natura è un libro scritto in linguaggio matematico e forme geometriche. E ragazzi, studiando la fisica, sapete che le cose stanno proprio così. Lo scienziato attraverso la matematica ne svela proprio le leggi, i segreti, i codici. E vediamo infine la poetica e lo stile. Galileo preferisce la lingua volgare, non il latino, perché il latino era parlato soprattutto da un pubblico corto. Lui invece voleva che le sue opere fossero lette e capite da tutti, quindi da un pubblico più vasto. Utilizza poi un linguaggio chiaro e preciso, oggi diremmo scientifico, e questa cosa non è banale perché siamo nel Seicento, c'è il barocco, e questo tipo di linguaggio è proprio il contrario di quello stile artificioso, retorico e bizzarro che era proprio tipico del barocco. Con Galileo quindi inizia la prosa scientifico-letteraria, che utilizza una sintassi e un linguaggio chiaro, l'uso di esempi e metafore per far capire meglio al lettore, e anche l'utilizzo del dialogo. C'è questo vivace discorso, confronto tra vari personaggi, tra varie opinioni, per rendere il tutto più accattivante e coinvolgente, e quindi anche più accessibile a un pubblico più vasto. Questo suo stile verrà imitato successivamente anche da altri filosofi e scienziati come Bacon, Newton e Cartesio, oltre poi anche ai divulgatori scientifici moderni.